ecco per voi una piccola funzionalità che si rivela grande in parecchie circostanze mi riferisco alla traduzione istantanea che uso abitualmente con il mio samsung note permette di evidenziare il testo sia che si tratti un documento una pagina web o addirittura un'immagine come potete vedere dal video il tutto avviene istantaneamente tramite pop up spesso faccio lo screenshot dell'immagine proprio per tenere l'originale e la traduzione di ciò che mi interessa provatela anche a voi